Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Imprunita e il Bibio per la variante di Valico e tra Arezzo e Firenze Sud. Segnaliamo sulla A1 in entrambi i casi in direzione Bologna che l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina e quella di Montepulciano Est sprovvista di GPL. Sulla Fipilì a causa di un veicolo in avaria ci sono rallentamenti tra Firenze Viadotto dell'Indiano e Firenze Scandici in direzione Mare. Sulla A12 segnalati materiali dispersi tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze Imprunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!